per essere venuti a questo secondo appuntamento per il cantiere malatestiano. Oggi c'è aria di chiasa, perché si parla della biblioteca malatestiana e abbiamo due ospiti che sono di chiasa, direi quasi più con l'unità dell'Aula dei Bluti, sicuramente Paolo Eurani, ma anche il romagnolo di importazione ormai acquisito come cittadino in Cesenante, insomma Paolo dell'Università di Cassino. Che dire su questo libro? Per dire una sciocchezza potrei dire che, riprenderò le parole del Presidente del Comitato Scientifico, potrei dire di meglio di quello che lui ha scritto nella prestazione di questo volume e sono sempre io. Quindi dirò che è un libro per me inaspettato, perché era abituato a vedere sia Paolo che Marco Chili sui codici e è un libro, quindi da un certo punto di vista sorprendente, ma altrettanto suggestivo. Certamente è una collaborazione che si è formata sul lavoro, sui codici, una collaborazione quindi genale, che è partita, come dire, voglio fare un riferimento personale, perché qui c'è il 75% di chi ha creato e manutenuto per almeno una decina d'anni il catalogo aperto nei manoscritti balatestiani, banca Paolo Zanfini, un'impresa che è riconosciuta in Europa che ha Cesena, incredibilmente. Bene, proprio su un catalogo aperto nei manoscritti balatestiani è iniziata una collaborazione che poi ha avuto altre escassioni cronologiche, prima i manoscritti datati dalla provincia di Folice Sena, il Silono balatestiano, le Vangelari a Dabiano e finalmente i graffini della Sala del Nute. e, come dire, da le mani dei copisti, naturalmente dei migliatori, ma loro sono più codicologi e quindi, direi, le mani dei copisti, ci si è allargati alle molte mani, che hanno invece lasciato testimonianza di sé, sui gluti e sui muri della malatestiana. E nella prefazione un chiavo con questo enorme maloscritto composito che in qualche modo, nelle varie mani, per gatti, sull'egno e sulla pietra, ma da pombole, grazie a Vigo Limbaola di Mani. L'altro elemento che mi piaceva sottolineare è il fatto che la monatestiana ci sono entrato più di due giorni fa insieme a Mauro Colazzi, che è stato l'ultimo nostro ospite, a quest'area, come dire, religiosa, direi quasi religiosa, monumentalizzata in qualche modo, che il giusto rigore conservativo offre appunto al visitatore. Questo libro in qualche modo consente di proiettare in questo silenzio delle figure umane. E allora il paragone che mi era venuto era con la metafora che Mark Locke fa nel lavoro dello storico, in cui dice appunto che lo storico è come l'orco delle fiabe che cerca l'odore di carne umana, dei documenti. In questo caso noi consigliamo cercandolo, dove ricambe umano, dei brutti e dei muri della monatestiana. Richiamo l'elemento umano perché credo che il maggior merito di questo libro sia quello di ricordarci che i libri, i codici, vanno scritti e sono soprattutto anche una storia di uomini. Per cui siamo pronti a farci guidare in questo viaggio attraverso i graffiti della monatestiana. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti. Grazie della vostra partecipazione. Allora oggi parliamo dei graffiti della monatestiana e cominciamo a chiederci perché abbiamo intrapreso questa ricerca dopo aver fatto alcuni studi sui manoscritti della monatestiana ecco a dedicarci a quello che invece che nei codici è scritto sulle pareti e sui banchi. La ricerca è nata da una domanda cioè capire in qualche modo quale fosse il bacino di utenza in frequentazione della biblioteca soprattutto nei primi decenni e nei primi secoli della sua storia. mancano quasi completamente le fonti documentarie per esempio è andato per tutto l'archivio del convento di San Francesco entro il quale era stata costruita la biblioteca e anche i documenti conservati dall'archivio comunale non danno informazioni di merito. In altre parole ci si chiede chi dal 1454 ha avancato questa splendida porta intagliata dal maestro Cristoforo di San Giovanni del Siceto erano studiosi erano religiosi erano visitatori nel senso moderno del termine e poi ancora erano donne o uomini di quale estrazione sociale. Ecco i graffiti possono dare in qualche modo delle risposte perché mentre come vedremo dal 500 in poi abbiamo notizie almeno di studiosi che sono venuti nell'aula di annulli e soprattutto i 50 anni che vanno dall'apertura della biblioteca ai primi anni del 500 rimangono in gran parte sconosciuti a livello appunto di documentazione e quindi ecco i graffiti chiaro che noi abbiamo utilizzato i graffiti come una fonte storica come gli studioli utilizzano invece altri tipi di documentazione altri tipi di fonte perché con la prima impressione oggi parlavamo anche con un giornalista che ci ha fatto una breve intervista e lui continuava a parlare di vandalismo cioè la nostra reazione quando vediamo delle scritte sui muri in un monumento di questo genere che ha appunto quest'aria così quasi di assentralità e parliamo di vandalismo questa gente ha soleggiato i muri alle due parti in realtà i graffiti noi abbiamo cercato di considerare da un altro punto di vista come una fonte storica di prima mano infatti da poco tempo diciamo da un tempo relativamente breve si è cercato proprio di vedere i graffiti come integrazione di altri fondi documentari di far parlare questi graffiti là dove i documenti non possono esistere e in particolare oltre alla questione del vandalismo c'è anche questo pregiudizio nei confronti dei graffiti che ci hanno stati a realizzarli delle persone tra virgolette ignoranti cioè di bassa cultura o di quasi nulla cultura dei semi alfabelli noi stiamo applicando i vicinostri di interi di contemporanea quello che sono oggetti del passato e che ridono portati dai nostri predecessori come l'altro spirito e quindi dobbiamo liberarci di questi tipo pregiudizi e osservare i graffiti nella loro realtà ma non solo questi della malgistiana ma partire da epoche indietro vediamo che innanzitutto non è vero che i graffiti siano fatti da queste persone non essendo alfabete anzi bene spesso nei secoli passati sono fatti da persone che sapevano leggere e scrivere ed erano di cultura medio alta e addirittura come verrà testimoniato per un caso celebre della malattia anche da personaggi illustri e la seconda cosa è che i graffiti sono stati nell'epoca precedente non solo diciamo tollerati ma in certi spazi anche previsti e potremmo fare moltissimi esempi per esempio nei santuari alto medievale basso medievale i fedeli lasciano le loro preghiere i loro nomi le invocazioni le dignità nei carceri che peggiori riscrivono sui muri le loro sofferenze e un esempio secondo me acclatante è quello della basilica di San Francesco d'Assiglio dove sotto gli affreschi di Giotto ci sono incise delle prediche di un tal frate picchiene allora è impossibile che un frate possa aver scritto queste prediche sul muro senza che nessuno li avesse compoverato se è vero che non era lecito scrivere queste cose quindi i graffiti non solo previsti ma espressi sparsi anche tollerati ecco quindi che i graffiti ci guidano alla scoperta di quello che erano i visitatori dobbiamo pensare che la mamma cristiana da subito è una biblioteca pubblica l'abbiamo detto tante volte e quindi chi viene qui può accedere a un patrimonio librario veramente straordinario e una cosa da non trascurare chi viene qui lo può fare anche come fanno oggi i visitatori cioè senza consultare i monoscritti come studiosi però appressano il monumento e infatti la mamma cristiana per i visiti soprattutto i primi visitatori rappresentava un modello nuovo il modello che Michelossa aveva inventato nella biblioteca di San Marco a Firenze nel 1444 e che si diponde poi in tutta l'Italia centrosettentrionale fino alla fine del 1400 e che Matteo Lugi o che per lui perché sapete che ci ha fatto il nome di un ben più illustro architetto di un Patrice Alberti comunque questo Matteo Lugi ha interpretato con una grande raffinatezza in linea con quella che era la politica colta di una terza novella ecco quindi che noi ci siamo avvicinati ai graffiti per scoprire le tracce armati di lampade per illuminare le pareti a luce radente perché sapete che la Valla Testiana è una sala che non ha illuminazione artificiale quindi molte pareti soprattutto i banchi rimangono in ombra e quindi c'era bisogno di illuminare le pareti per poter cogliere tutti i segni scritti sui muri e seconda cosa abbiamo fatto fare al fotografo della Valla Testiana di Valla Giovannini una campagna fotografica quindi abbiamo la documentazione di tutti i 241 graffiti presenti all'interno della sala e che noi abbiamo potuto studiare perché con l'ausilio appunto della fotografia possiamo grandire in particolare essere entrato anche di legge al meglio c'è da dire una cosa non siamo stati primi questo bisogna riconoscere in verito a chi l'ha avuto lo suo scrittore dei graffiti è il direttore della biblioteca Mario Torquato Nassi che scoprì nel ristauro che operava la biblioteca negli anni dal 1923 al 1925 cosa era successo vi propongo una fotografia degli anni del ristauro di Nassi vedete la Valla Testiana vuota prima di Banti fa un certo effetto ecco voi sapete che è un fatto notissimo ce lo siamo raccontati tante volte nel 1797 quando i francesi vennero a Cesena a seguito di Napoleone e trasformavano il formento di San Francesco in caserma e il comune per salvare la Mala Testiana in Portovini in quei banti quindi i francesi trasformarono il dormitorio in quest'aula vuota come la vediamo in questa foto e per quello che ci interessa ai fini della ricerca inviancavano le pareti con una mano di calce qualche anno dopo il comune ottiene dal governo francese di ripristinare la Mala Testiana chiama l'architetto Marconi a restaurare le biblioteche e l'architetto Marconi dà un'altra mano di bianco sulle pareti e in più dipinge sulla parete di fondo queste architetture fantastiche bene Maglio d'Als nel 1923 inizia un restauro filologico della Mala Testiana e quindi togliete due mani di calce 7800 che erano stati applicati e i graffiti che erano stati nascosti per un totto di decenni vengono alla luce insieme a questa tinta verde bellissima che è un po' il tratto distintivo caratterizzante della nostra bibliognita e quindi Tassi poi descrive nella sua relazione il lavoro che ha compiuto e dice che il restauro ha ridato persino i toni originali della magnifica sala cioè quel verde in cui parlavamo popolato la quale su dai nomi graffitti dei suoi frequentatori del 4-500 da Malatesta Novevo dalla monacale sua donna violante alla sempre amorosa Lucretia Borgia allora la cosa degli anni venti è abbastanza significativa definisce violante monacale la amorosa Lucretia Borgia c'è da dire che Tassi è sicuro dell'autografia di Lucretia Borgia in una conferenza che lo stesso Tassi tiene nel 1953 in occasione della celebrazione dei 500 anni della biblioteca malatestiana lui scrive così dice che le maestranze cioè gli operai che erano caricati del restauro all'interno della sala religiosamente scrostavano i due strati di calcio crocenteschi alla prima traccia di graffitti mi chiamavano lui poco lo segui dicendo che interveniva lui stesso con un raschietto e adagio adagio toglieva la calce e scopriva le lettere ad una ad una diceva descrizioni d'arte nomi di visitatori una folla che veniva in conto dai primi anni di vita della biblioteca e l'animava di presenza appassionata quindi Tassi fece questo lavoro straordinario di scoperta dei graffitti purtroppo non potendo apprendere uno studio come forse avrebbe voluto perché si trasferì a Venezia alla biblioteca quelli di stamparia e da allora effettivamente nessuno si è occupato più dei graffitti se non citato quello che Tassi per primo aveva messo in evidenza tra l'altro Tassi aveva anche fatto dei calchi con le veline dei graffitti e le aveva collocate e lo scrive dietro i cristalli a guida di curiosi e a suggerimento di integrazione per studiosi quindi praticamente erano messi nel lato della biblioteca e servivano sia i digitatori che erano curiosi di sapere cosa c'era scritto sui muri e sui banchi sia anche a disposizione degli studiosi che volevano magari approfondire questi graffitti questi nomi ecco noi le abbiamo utilizzate durante il nostro studio dei graffitti e purtroppo abbiamo notato che in poco meno di cento anni sono scomparse delle lettere che dassi invece aveva letto il ricordotto sui calchi e addirittura intere parole quindi i graffitti pongono anche adesso un problema di conservazione che vedremo di affrontare ecco il professor Parma poi vi descriverà i graffitti un po' in particolare mettendo in evidenza quelli più significativi quelli più tra virgolette importanti ecco io vi faccio invece un breve scursus delle fonti che avevamo noi a disposizione delle fonti documentarie per ricostruire appunto la frequentazione della biblioteca da una parte gli studiosi dall'altra i visitatori che sono comunque le due categorie che fin dall'inizio vediamo presenti all'interno della nostra biblioteca per il 400 la seconda metà del 400 intendo le fonti sono scarsissime e sostanzialmente possiamo ridurle a due uno è un visitatore Francesco Giordano che ha sposato una cesenata e viene a visitare la Malatestiana e la Basilica del Monte della Malatestiana scrive questa descrizione se la leggiamo sembra che l'abbia scritta oggi stesso perché la Malatestiana ci testimonia con questa descrizione che non è cambiata affatto in tutti questi secoli è venuta il giorno 25 di luglio del 1485 vedete che oltre alla descrizione fa il disegno dell'asta di ferro a cui sono infilate le catenelle che legano i codici poi al gluteo l'altro invece si pone più come uno studioso è il nostro Giuliano Fantagusti l'autore del Caos e nel Caos non solo descrive la biblioteca ma poi da molti accendi fa capire che ha consultato i codici e li ha studiati soprattutto pari libri di storia di filosofia nel 500 abbiamo un personaggio famoso che è Paolo Manusti figlio dell'editore Ando che viene a Cesena si sentitisce letteralmente in Malatestiana per dei giorni non dà più notizia di sé e questo lo racconta un amico Anibal Caro in una sua lettera in cui riprova scherzosamente Manusti dice dove vi siete messo noi amici vi abbiamo cercato voi non davate notizie di voi e non vi abbiamo praticamente pianto per morto quindi evidentemente Paolo Manusti aveva trovato talmente i motivi di interesse nei codici malatestiani che si era messo lì e aveva studiato giorni e giorni senza dare più segno di sé nell'inizio del 500 abbiamo due testimonianze importanti di due personaggi peraltro non tanto celebri Fabio Rigini e Giulio Poggiano loro però fanno un lavoro molto interessante perché compirono i primi inventari dei codici malatestiani e gli inventari sono ancora sconservati in manoscritto alla biblioteca Vaticana un altro personaggio che viene nel 600 e lo Costegno e lui accompagna la regina Cristina di Svezia nel suo viaggio dalla Svezia a Roma e fanno tappa cesena sono ospitati nel monastero delle monache di San Viaggio e lui scrive in questo diario che è venuto qui in primo male di buon mattino a consultare i codici greci lo mettiamo insieme a un altro personaggio importante gesuita Antonio Possilino che viene anche lui in malatestiana e pubblica un elenco dei codici malatestiani che riguardano soprattutto la religione questo cosa vuol dire questo interesse che hanno gli studiosi a venire qui a guardare i codici a pubblicare i cataloghi che la malatestiana va entrata nel circuito di quelle biblioteche che hanno un patrimonio codicologico un patrimonio di manoscritti veramente importante che quindi va segnalato e va ricordato nel settecento viene l'erudito Gian Domenico Mansi che tra l'altro suggerisce al padre Francescano Muncioli che è il bibliotecario della malatestiana di compilare quello che sarà il primo catalogo a stampa dei nostri codici e finiamo col cerebrero studioso Teodoro Monsen che viene a Cesena nella seconda metà dell'ottocento consulta molti dei nostri codici e poi intraprende una corrispondenza col bibliotecario di allora e per esempio consulta il codice studio antico della malatestiana il nostro Isidoro di Siviglia del nonno secolo quando abbiamo delle testimonianze certe dei visitatori praticamente negli anni settanta dell'ottocento perché finalmente viene introdotto il registro degli studiosi e abbiamo qui riprodotto una pagina nel registro degli studiosi si è anche finalmente la possibilità di conoscere chi ha studiato i codici e quali codici sono stati consultati vi ho aperto la pagina del registro che è appunto Cittamox che è venuto qui a vedere l'esidoro e poi Deusebio la cronaca contemporaneamente nel 1871 si inizia a fare una statistica regolare da parte dei bibliotecari che si registrano gli accessi ed è interessante vedere che nel 1871 vennero 118 persone a visitare la biblioteca contro pochissimi studiosi peraltro una decina arriviamo al 2017 con 19.613 registratori e preme mettere in evidenza che dal 2000 ad oggi e quindi in 16-17 anni i registratori sono raddoppiati quindi la matematica effettivamente comincia a diventare un luogo una tappa del circuito dei turisti ovviamente nel 1900 i numeri sono molto ridotti specialmente io ho messo in evidenza gli anni della prima guerra mondiale quando effettivamente addirittura nel 1218 dopo quel mese di febbraio si chiudono le visite che vengono riprese nel 1920 ecco alla fine dell'800 gli è introdotto anche il registro delle firme dei visitatori quindi oltre alla statistica ufficiale si permette ai visitatori di lasciare una traccia di sé idealmente questo dovrebbe continuare quello che nei secoli precedenti i visitatori facevano sui muri sui banchi e ho messo una pagina a caso ma sono tutti interessanti c'è una data è la data del 6 aprile del 2016 ci sono dei nomi di visitatori ci sono dei giudizi questo in spagnolo scrive che bellezza c'è chi fa un disegno ve lo faccio vedere un po' meglio un po' ingrandito un visitatore francese di Marsiglia che fa questo disegnino molto carino dell'elefantino che legge il libro scritto vedete il monaco come impegnato nella redazione del manoscritto e ha aggiunto Tollet legge prendi e leggi ecco è simpatico paragonare lo spirito di entusiasmo che accomuna i visitatori antichi e moderni quindi abbiamo da una parte gli antichi che fanno disegni e firme sul muro e dall'altra parte i visitatori di oggi che fanno disegni e firme su questo registro anche se come vedremo nel nostro secolo poi non mancano persone che hanno scritto nonostante il registro anche sui muri e sui panni quindi concludo questo discorso che spero abbiate seguito il filo nonostante sia stato un po' vario e sconfuso il filo era dato comunque dalla presenza delle persone malattestiane sia nel sindicatore o studiosi e tornando alla ricerca del senso e graffiti ci piace sperare di aver aggiunto un altro piccolo tassiale un altro piccolo elemento alla storia della nostra biblioteca che non finisce mai di suscitare meraviglia di suscitare ricerche se per tanti secoli l'elemento prevalente di studio come abbiamo visto sono stati manoscritti quindi dal punto di vista filologico storico artistico codicologico in sé e poi naturalmente la storia di questo monumento l'architettura il suo inquadramento invece nel panorama architettonico nelle biblioteche ecco noi abbiamo portato invece l'attenzione più grata su quelli che nei secoli l'hanno frequentata sperando appunto di aver raggiunto questo elemento in più grazie adesso cominciamo un piccolo giro per questi graffizi per queste scritture che vanno dalla 167 a un anno esattamente quale sia ma sono io parlo un po' piano però devo girare il volume ecco voglio dire che quello che farò adesso è rinchiurare il volume perché la cosa migliore è averci sotto gli occhi ovviamente molto da vicino quello che si va a vedere attivamente arriviamo fino al ventunesimo secolo poi alla fine si dice che cosa sarei databili del ventunesimo secolo i primi trenta non so trentanni gli ultimi trentanni del quattrocento e quantosina del cinquecento quindi cinquecento uno che è la figura trenta chi c'è il grosso il grosso è questo dal punto di vista dei misiatori della prima fase della cristiana e la cosa più importante è che già a partire da 1467 il primo datato è quello di francolino Minzoni da Padova 10 luglio 1467 è la figura 4 non è questo evidentemente trentici anni dopo di inaugurazione della biblioteca venire qui e scriverci dentro è una cosa che è attenta buona e giusta vale a dire qualcuno ci teneva a vivere a Cesena venendo a Cesena venendo in Manateziana e a lasciare il progredone magari anche la data della sua lista cioè era già un momento a 13 anni dalla inaugurazione allora questi tipi nomi che vedete franco Minzoni da Padova Francesco Fassioli da Alcuna sono degli illustri sconosciuti non sappiamo chi sia sono tutti e due nel 1467 e hanno scritto sul banco non ci sono solo Ubi ci sono anche Bacchi sui banchi si scrive si scrive un sacco una l'altra se avete la pazienza di scorrere le 241 graffini che abbiamo individuato ne troverete molti sui banchi anche parecchio curiosi questo è il banco destro l'ultimo 3 29 scusate 29 l'ultimo banco in fondo sulla parete che guarda il numero del banco hanno tutti dove scritto il loro nome la data e da dove venivano perché l'hanno fatto evidentemente ma arrivano prima era importante dire io ci sono stato questa è la psicologia del dell'affitato che lascia scritto qualcosa e naturalmente dipende dai tempi dei personaggi quello che volete insomma però vuole fermare il tempo in qualche maniera vuol dire io sono io quello che in questa data sono stato qui evidentemente vale la pena scrivere e lasciare un ricordo di sé in effetti in qualche modo questi sono passati alla storia sono degli giusti sconosciuti ma significano qualcosa per comprendere che cosa passava al visitatore della malattia stiana all'inizio a 13 anni dalla inaugurazione se andiamo un po' avanti figura 7 o c'è 1871 capire no zanna si 1878 che numero è 6 1872 1470 io e io vado allora queste sono le poche chissà chi sono io e io vado sono direttamente le persone che vengono insieme dalla lì con la pari a chi volete voi insomma vengono i due e ci tengono a dire che sono i due siamo nel 1470 c'è anche la data e basta nel 1471 perché questo non è l'unico caso è di date semplici lasciare detto in qualche modo siamo in questo momento siamo in questo anno e io sono qua anche se non vinto il mio nome in questo caso notate queste scritte che abbiamo visto finora sono sia minuscole che maiuscole le prime due quelle dei due risicatori del 1867 sono in minuscola queste altre sono la grande maggioranza sono in minuscola allora scrivere in maiuscola questa è un'esperienza che possiamo fare in qualunque momento ma noi è un pochino più semplice e più veloce che scrivere in minuscola ma scrivere su un banco meglio ancora su un muro con uno strumento che incide evidentemente non è tanto semplice quindi chi scrive in minuscola incidendo evidentemente qualche idea di come si scrive ce la rima cioè sono delle persone che sono acculturate a livello tale da conoscere la scrittura delle persone colte del secondo patrocello cioè una minuscola di base cioè una minuscola di base umanistica che poi nella italiana non entriamo per cercare la definizione delle scritture eh lato qua alle ogre speciali nel secolo di reciprocità c'è una sola quindi non c'è bisogno di questionare insomma ulteriormente su questo questa è la scrittura di quelli che sapevano scrivere anche se non scrivevano libri e scrivevano in modo che abbiamo visto in maniera perfettamente impelecibile incidendo gli altri si affermavano un po' nel 1471 nel 1471 incidendo veniamo alla successiva qui abbiamo diciamo il capitolo in gran moda del genere Zohanna Alba Littula Zohanna ci mette l'anno cioè il 1471 Alba e Littula no nel libro c'è scritto che mentre Zohanna potrebbe essere lei le altre due come ha detto che siamo loro potrebbe essere anche qualcuno che scrive perché quel nome è molto caro non lo sappiamo ci sono alcune caratteristiche Zohanna a parte fatto che scrive Zohanna già con la Z quindi questo è indicativo del livello di appunturazione per semplificare fa un nesso doppia n come vedete che sembrerebbe una cosa abbastanza complessa e difficile io penso che in questo caso sia un modo di semplificare e di spiegarsi Alba e Littula veramente c'è la cosa più significativa è che ha le due a di Alba con l'attraverso che forma una specie di angolo Littula è un nome che vuole essere Lassus quindi qualcuno che ha voluto lasciare il ricordo di una maniera colpisce che fosse una persona di nome Littula è un pochino difficile da capire veniamo a questi signori che scrivono uno batti falsa e diciamo catani che scrivono i quali sono la figura 9 nel mio libro scrivono nella spalla della prima finestra di sinistra allora scrivere in piano sul legno è una cosa abbastanza diciamo è la rete più semplice scrivere sul muro quando il muro ce l'hai sotto e non di fronte è ancora abbastanza semplice scrivere sul muro inci dentro quando il muro è in posizione non pianta come la spalla della finestra è una cosetta insomma non esattamente per tutti guardate non ce l'abbiamo questo qua nel quello che vedete è dato a genna dalla parola della finestra la finestra è in qualche modo questi signori ci hanno provato uno dei cuori ci ha provato a scrivere Dio Jacopo Catani Dio Jacopo Catani poi il foco dal perere San Francisco che era il nome ufficiale della madre stiana che inizia 1477 con un rosa battifalza quando io fui qua perdonami eccetera eccetera sono un sacco di punti perché naturalmente non riusciamo a leggere proprio non c'è un intervento abbiamo messo in due eccoli qua questi sono stati con sopra soli entrambi questi sono due cesennati effettivamente le loro famiglie sono due cesennati siamo sempre ancora negli anni 70 vedendo del 400 ancora più minuscola Thomas Dio è Frater Antonios che è veramente difficile è difficile da leggere trovate il libro a letture 10 e 11 ci vuole uno di buona volta anche qua uno è sul sul muro e l'altro è sulla parete del bando abbiamo cercato di rendere visibili perlomeno i testi io vorrei che ancora un articolo parecchio si chiede di che cosa significa scoprire di questi graffini letteralmente bisogna andare toccando il muro come c'è insomma per trovare come l'inciso il legno illuminarlo e la buona terziata ma che avete in inverno non è molto minosa specialmente se il tempo non è troppo bellissimo o comunque a certe ore del giorno o del pomeriggio riuscire a vedere è un'impresa molto difficile quindi è garantito che ce ne sono altri che non abbiamo messo poi non siamo andati a di sopra dell'altezza d'uomo io non sono in grado che per pensare fosse l'altezza d'uomo non siamo andati a vedere sotto i banchi diciamo che questo è il tentativo di vedere dove si poteva ragionevolmente pensare che fossero dei luoghi dove qualcuno poteva scrivere quindi ce n'è anche per i posti insomma allora ora siamo nel 400 e siamo nel 400 certamente con la testa novello è Ognus che diceva Daz e Violante la famosa Violante questi non sono loro ma l'aveva scritto ovviamente forse ma la testa novella non si chiamava non lì non si chiede solo doveva essere una cosa del genere ma forse c'era le PSQL e Violante non è l'antico da lasciare sui muri verosimilmente in Violante c'è una caratteristica abbastanza originale cioè io sono la pia in solito la o sono delle introdusse in qualche maniera questo è una cosa sempre abbastanza diciamo difficilmente evidente perché se fosse un grande comista si potrebbe pensare che l'avessero fatto apposta qua potrebbe essere un primo modo di scrivere più in fretta non sappiamo il tempo la libertà d'azione che potevano avere questi personaggi però scrivere il nome di Violante ma la testa non è lì che motivazione quale perché sono i fondatori perché sono i personaggi che in qualche modo alleggiano il posto ma uno perché deve dire scrivere Violante e ma la testa sui muri qual è non c'è non c'è non c'è è viva al basso qualche cosa insomma che accompagni il nome chi l'ha fatto evidentemente ha voluto ricordare tra le maniere i personaggi e i personaggi in dentro ha leggato questo c'era è un modo anche di prendersi conto e di rendere conto del fatto che uno si era reso conto di dove sta scrivere questo questo viene bene verrà bene un po' dopo prima leggiamo questo Domenico con la giuscola e tutte le altre lettere maiuscole Domenico P chi sa chi era lo stupito certamente non uno che era molto abituato a scrivere anche il fatto di conciare con la giuscola poi proseguire con la maiuscola o il modo in cui vedrà c'è anche la G maiuscola di Domenico questa è un'altra cuglia Giovanni Suannes e Giacomo Giacomo compatti compagni e poi Finis ecco cosa significa Finis ammesso che l'abbiano scritto con i loro insomma per come tracciato là così dovrebbe essere guardate la estra di Juannes tirata in giù a conclusione è l'ultima l'ultima lettera della parola e l'importante è che infatti non c'è di cambiare solo il corpo il termine che oggi sarebbe comprensibilissimo ma magari uno non penserebbe nel quattrocento che più o meno ci speressero a dire che erano compagni poi vediamo al suo tirolese quello signore che sta scrivere si chiama Ioannes Ionner Almanos e Dobicum che dovrebbe essere tolbra vengono bianco ci deve dire che è il disco guardate il sinale è una relazione tipica era un po' che sappiava scrivere e dedicata qui dove era territorio germanico all'epoca non è un caso dico per un'altra questione che i tipografi tedeschi ci tengono molto a scrivere che sono tedeschi lo vintano come qualifica è una cosa direte forse lo dicono perché stampa militare non tritornano stampati in Italia magari in Germania non ci devono allo stesso modo però questa qualifica di origine in un posto che evidentemente non era la loro patria la vediamo rappresentata anche qua ripeto questo è il signore che sa che era scrivere guardate è maiuscola le maiuscole sono al loro posto il De la De curva ha una formazione evidentemente che è un tempo si sarebbe detto gotica testualis come volete qui quella scritta là quella che non è quella negliomani la nostra scuola scrive maiuscola questo scrittore che invece dovrebbe essere un personaggio che mi dico va a dire bagna bagna tra l'altro quindi uno in queste parti il quale è noto ecco questo è un personaggio noto perché ha avuto a che fare con punti con ironi o insomma con con intellettuali del secondo patrice cioè ecco qua un nome di persona che personalmente ha scritto l'uvin evidentemente aveva anche un piacere guardate l'uvin ha fatto l'uvin è chiaramente una persona assurda la successiva è un quadro generale perché io ho visto i carticolari tolta già ti ho tolta quindi non ti addoriamo allora veniamo diciamo al personaggio più più in noi nel libro sono le figure 18 19 20 21 22 20 però però il personaggio è di qualche devagità allora ci sono 14 Lucrezia in alcuni casi non sfidute l'intero ma ce ne sono 14 sui muri della malattia ma la testa ma lei ma ce ne è uno di Olanda ce ne è uno siamo dei nomi qualissimi Lucrezia c'è 14 volte non sarà un caso possono passare tanti Lucrezia o tanti come dire persone che devono accorre una Lucrezia da scrivere sempre questo la risposta ce l'abbiamo dopo c'è anche questo forse un caso in cui si può dire che la Lucrezia è una persona diciamo che non è venuta da sola la tra minio e Lucrezia insomma in qualche maniera questa può essere una Lucrezia qualunque diciamo ma gli altri 13 no andiamo allora tutte 13 su 14 sono meno più o meno bene in particolare dunque non c'è ma scusate che era la mia chiesa sono come una testa a novella o come ignorante come domico da bagna cavallo sono persone che scrive in maniera veloce maiuscola o perché si deve sventare o perché soprattutto non ha altro modo chi aschina si sente sicuro di scrivere maiuscola c'è una sola un solo caso in cui Lucrezia il nome è maiuscola è quello che vedete alle spalle è quello che vedete qua dove il verde evidentemente è stato messo da chi ha preparato la 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 l'esterno allora di quanto c'è scritto Lucrezia B questo è Lucrezia B chi è si si chiama Lucrezia B come si fa a non pensare alla più famosa Lucrezia B che esiste cioè Lucrezia B allora qua le state sono un paio una è dire Lucrezia Borgia Cesena perché quando chi ce lo dice allora ce lo dice il caos ad esempio il famoso caos del frattacus il cronista locale che come leggete lì dice e a di 8 di gennaio 1502 si è partì da Roma madame Lucrezia con mille cavalli per andare a Ferrara a Marito cioè Alfonso d'Este e figlio di Ercole d'Este a di 24 giunse a Cesena portata da due cavalli grossi in un'altra calentica ed a di 25 si è partì da Cesena ed a cavallo andò a Forio allora questo episodio è notissimo anzitutto il viaggio dall'8 di gennaio alla alla fine del mese e anche inizio di febbraio adesso mi ricordo esattamente il giorno dell'arrivo a Ferrara quello che è successo praticamente lo conosciamo giorno per giorno ci sono croneg di ogni tipo adesso poi ne vedremo quelle più specifiche e più indicative Lucrezia aveva Lucrezia Borgia nel 1502 doveva contare ancora 22 anni era nata nel 1880 aveva già due mariti alle spalle figli e una vita non esattamente semplice il padre che la usava per Alessandro VI che la usava per la sua politica italiana ma non soltanto aveva deciso di avere un buon appoggio afferrata e quindi cercare di convincere il Dugan eccole a concedere la mano del figlio la cosa prese numerose mesi trattative e soprattutto costò un'ira di dio di soldi al Papa fino a quando gli ambasciatori estensi a Roma non erano finito di contare materialmente i soldi della dote Lucrezia rimase l'8 di gennaio finalmente partì mille cavalli carri ogni tipo di accompagnamento comprese monache che venivano portate in convento a Ferrara insomma veramente un'arca di Noè fermandosi ogni giorno in un posto diverso insomma una bella sosta che l'ha fatta a Urbino e poi a Rimini normalmente a Pesaro a Rimini dopodiché appunto a Rimini il 24 gennaio il corteo partì per Cesena a Cesena comandava all'epoca il fratello famoso Luca Valentino il quale aveva tutto l'interesse ovviamente a far andare molto bene questa vista della sorella e possiamo vedere come penso lo posso leggere però questa l'accoglienza l'accoglienza che del libro queste cose sono stampate allora il 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 dopo aveva avuto rincassato la dote voleva anche essere sicuro che non succedessero cose strane durante questo viaggio e quindi aveva incaricato due suoi messi che si chiamavano Giovanni Luca Castellini o Pozzi dei due cognomi detto con tremoni per il terzo progno e che erano di seguire passo passo e di informarlo quotidianamente di quello che succeda allora questi due signori scrivono al 2 di febbraio evidentemente la sera del 24 gennaio 1500 vi leggo qualche riga perché avete l'idea dell'accoglienza che ha avuto qui Lucrezia illustrissimo e trascendissimo signor nostro osservatissimo oggi partissimo da Arimi e siamo giunti qui sani e salvi e di buona voglia dove è stata incontrata la illustrissima madame Altrezza ultra ordinare degli cittadini da cento punti tutti vestiti di nuovo a spese dell'illustrissimo signor duca del romagna cioè il valentino cioè il fratello di Lucrezia le panno bianco e timorello a quartieri con le olive in mano di quali la accompagnò Mizzino in rocca cioè in piazza dove alloggiata gridano duca duca Lucrezia Lucrezia qui siamo stati trattati abundantemente di ogni cosa come anche è stato fatto a Pesaro e a Arimi e tutto a spese del predetto signor duca del romagna il quale per più so elettere ha commesso al magnifico Messer Remiro che era il suo governatore della città che così faria e si stima che le altre sue terre si migliorano e può bastare chi vuole si può leggere anche il resto perché è il tipo di precisione assoluta con cui gli inviati messi chiamatele come volete voi del duca di frattata scrivevano al loro signore quindi abbiamo il caos e abbiamo questa lettera che è conservata al qui o che stiamo non bastando questo che ci dichiara quindi che il 24 gennaio 1502 è un pomeriggio perlomeno insomma ha un certo punto il tempo che ci voleva per venire da Lismi è arrivata qua a Pesia abbiamo un altro messaggio che vi viene raccontato soltanto per quello che ci interessa sempre dei suddenti 2 Castellini e Saraceni scritto da Faenza il 26 gennaio cioè due giorni dopo eri cioè ieri da Cesena benissimo a Forlì oggi siamo venuti qui con pioggia allora ieri evidentemente si scrivono il 26 gennaio e il 25 oggi cioè il 26 siamo venuti qui cioè a Faenza ergo arrivò a aver fatto che Lucrezia ha perlontato a Cesena la notte fra il 24 e il 25 gennaio del 502 abbiamo la testimonianza del del cronista e abbiamo la testimonianza dei due doppia tra l'altro doppia dei due messi del Ducati Ferrara allora una cosa quindi la possiamo dire tranquillamente Lucrezia Borgia che sta a Cesena perlomeno la notte fra il 24 e il 25 non sarà arrivata alle 10 di sera per partire alle 6 del mattino insomma magari sarà arrivata a Romeriggio pensate ma ci si poteva vittere da lì e quanto poi ci si poteva vittere per andare da qui a Forlì verosimilmente metà della giornata una parte della giornata del 24 una parte della giornata del 25 avrà avuto come si può dire tempo libero oltre a tornire a noi no? non abbiamo assolutamente dubbi sul fatto che la Cresia Borgia sia stata a Cesena in quella domanda a questo possiamo ridurre l'altro tipo di ragionamenti come è scritta questa stuprezza che vedete allora è una minuscola l'abbiamo è una minuscola tranne la L maiuscola e la B di Borgia che è minuscola come sempre tutte le attestazioni i cognomi di Lucrezia hanno la B minuscola e lei ci teneva moltissimi lo vedremo anche adesso perché vedremo anche il cognome acquisito però il suo di cognome ci teneva sempre a me era la figlia del padre era una coppia e questo doveva essere sempre a sé allora analisi grafica attualmente l'analisi grafica deve tenere conto che qua si scrive sui davanzali della finestra sedicesima finestra del test quello che facciamo vedere adesso vi spiego che cos'è nelle due altre immagini sono le sue firme con qualche altra parola su carta di conseguenza dovete sempre pensare insomma che per quanto fosse una che sapeva scrivere che lui invece aveva studiato è un personaggio che sapeva parlare capiva benissimo i lativi scriveva benissimo lo vedremo anche qua oltre che italiano anche in castigliano insomma era un personaggio che il fatto suo dal punto di vista della compilazione generale e della capacità grafica lo sapete queste due che vedete sono lettere che la nostra ha scritto a Pietro Vecco le ha scritte tra il 1502 e il 1503 c'è una serie di leggende infinite su questa relazione tra Evo e Lucrezia ma su Lucrezia potete scegliere negli ultimi dieci anni ci saranno 5-6 monografie non monografie diciamo per gli storici monografie per il grande pubblico perché Lucrezia è un personaggio che va bene per le serie televisive che va bene per per qualunque tipo di di ecco che non ha un altro interesse per la storia la storia avanzata è l'offerta a Pietro Vecco e 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 evidentissimamente il loro è stato un rapporto piuttosto intenso non lunghissimo ma che è continuato poi in altro modo diciamo a ripiare Pietro Vecco a un certo punto ma abbastanza presto se ne dovete andare a Ferrada perché il Duca non lo voleva proprio più e allora a Pietro Vecco ci furono scambi epistolari queste scambi queste sono le sequenze d'arte originale all'Abrosiana a Milano ah sì sì come dei presunti capelli ciocca al capelli conservata sottodentro e che verosimilmente devono essere una di queste reti poi se siano i suoi non lo sappiamo diciamo che Byron non riuscì a rubarmi per dire a che appunto siamo una stravoluzione a bo in quanto a leggere allora che c'è scritto Desierosa gratificabile Desieroso perché è gratificabile Lucrezia estensis de Borgio allora secondo me direi che lei in un'altra comunicazione è una lettura lucissima che è la buonissima lei era la buonissima quando muore Ercole diventa la buonissima a pieno quindi Lucrezia estensis de Borgio dall'altra parte in Castigliano a lo che ordinareis resta Lucrezia di Borgio cioè a ciò che ordinarei pronta che era la formula cioè non vuol dire mica che si piegava il volere di Borgio in modo di salvare gli specchi diciamo no gli stinti saluti allora possiamo dire che ci sono delle suglianze per queste scritture cioè non comunque la grande L guardate però come è fatta la L è grande è bella grande provate a fare la grande L in quel modo grattando con uno stilo o qualche strumento che vi permette di incidere il 1 e forse non verrà esattamente come la vedete sul campo la U non mi pare che presenti grandi differenze lo stesso la C la R è estremamente simile o in tutto sono ordolette non è che possiamo fare con grande ed è una fila la R aperta quasi a forma Y è estremamente simile la R è riuscita tonda un po' più tonda sul muro che non sulle lettere sulla camera T ecco questa forse è la cosa che colpisce più questo T fatto così può sembrare strappo insomma nel senso perché in questa maniera guardate come è fatto il T delle lettere la I ben presentata attraverso la R e soprattutto sopra la I c'è il puntino il puntino c'è anche sul numero e la il tirare giù potrebbe essere diviso la difficoltà di riuscire a fare un estremo angolo retto anche là ha tirato giù ve lo stesso a questa è una delle lettere più caratteristiche ha una coda per celeste lunghissima sia sul muro che sulla camera proprio ha una lunga camera la mia è minuscola è infilata a destra è fatta praticamente allo stesso modo allora dal punto di vista cattico le somiglianze sono evidenti dal punto di vista storico non abbiamo non abbiamo il minimo dubbio che lei sia passata questo è un luogo dove siamo rispetto a piazza del popolo 300 metri va bene eh che dite voi che siete del posto quanto può essere Lucrezia ha 22 anni magari il rubretto sia abbastanza bene visto che il 22 il 24 il 25 di gennaio forse poteva arrivare e tornarsi in casa no? una vista poterà benissimo rientrare nel panorama di un personaggio come lei perché una persona che era studiato con un ponio letto che intratteneva rapporti con Chierro Bello alla pari non poteva avere voglia di venire a passare dieci minuti mezz'ora un'ora in mano testiana questo ho già detto Tazzi non è che diciamo i per primi la cosa singolare è che dopo Tazzi non ha detto nessuno e ci sono tonnellate di bibliografia sulla mano testiana ma una cosa di questo genere che forse qualche curiosità l'avrebbero tutta a smuotere non ha detto nessuno allora che cosa dobbiamo comprendere noi dal proposto alla bracciata è vero che abbiamo messo cioè ci mettiamo la faccia insomma ci abbiamo messo anche la peperina perché siamo convinti di che cosa che questa sia una tesi sostenibile questa è una tesi per smentire la quale non voglio farare il filosofo della scienza insomma però evidentemente noi abbiamo portato dei dati a conforto della nostra opinione è il classico caso in cui questa tesi è contentibile vale a dire si può dire accetto si può dire non ci credo però chi dice che non ci crede deve portare a sua volta degli altri che smentiscano quelli che abbiamo portato dopo di coricibili allora vediamo al XX secolo vediamo al XX secolo vedete lì di Valizza questo è chiaramente una scrittura recentesca al suo progetto è quello che potevo scrivere anche sul buco di Valizza sul mio bel nome ma perché scrivere di Valizza tra le due finestre di destra non la prima la seconda e chi è che interessa scrivere di Valizza un francese che passava di qua ci teneva a dire che era francese ma perché se l'avete vista sulla la pagina del registro che è anche nel libro c'è quello che dice di Marsiglia però quello è uno che si firma e dice io sono di Marsiglia qua di Valizza di senso allora vi racconto questo piccolo episodio che mi è capitato qualche giorno fa per tutt'altro motivo ho rivisto il filmato della dichiarazione di guerra del 10 giugno Guaragutta l'istituto queste cose le sapeva fare molto bene quindi penso l'avete vista anche a voi era una famosissima che è il luce che si appaggia e dichiarava l'ora le decisioni irrevocabili e sblocate eccetera eccetera la dichiarazione guerra è stata già consegnata agli appaggiatori di grande l'altra a un certo punto chi riprendeva guarda la prova festante e mi chiamano altre cartelle Corsica non viva Corsica vogliamo la porta Corsica Malta Miss ecco non c'è nessuna prova che ovviamente questo si sia riscritto diciamo da qualcuno che volesse intendere quello che i cartelli del 10 giugno del 40 intendiva però insomma è una possibilità questa è molto diversa dalla storia di Lorenzienze me la riporto come curiosità secondo me i pollicini sono l'arte ma allora prima dei pollicini bisogna dire perché siamo al XX secolo ma noi siamo al XXI e la Buna Tessiana come dice il titolo di questo libro qualcosa che offrirci anche per il XXI secolo la cosa più affascinante è un numero di cellulare su un banco questo non c'è però lo trovate il libro c'è scritto 339 ma non è buono abbiamo chiamato un sacco anche prima di andare a recogliamento in macchina non è buono non è buono purtroppo io avrei pagato un po' per avere una risposta sì sono io sì ecco un po' non c'è un'altra cosa è quella allora per fare claritore perché questa non c'è non è eh per chi alessi il libro è sabato sì allora sabato ecco è la numero 138 è il grafico numero 138 la pagina 72 sabato ore 17.30 garatori maianni è un appuntamento insomma non garatori maianni abbiamo fatto qualche minuto di ricerca e abbiamo trovato che a corso d'agosto a Rigni a distanza di un di detti numeri decisi c'è un avvocato garatori e un commercialista maianni a questi non abbiamo telefonato e vi accontentate di questo fatto quindi come vedete gli uomini le donne bambini e nubi continuano rapidamente a parlare anche nel 20 nell'alora del 20 grazie 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 se avete domande due autori sono a vostra situazione prego qui due due anni fare parte signora che ti chiedo per fin la ma io volevo chiedere in generale ci sono sei oltre che si chieda la domanda e le altre terremi di sicurezza che sono i moni di scuola è un caso? sono sempre lei o sono altri di scuola? è un risultato che si faceva prima a proposito di violante a proposito di violante da tutti i secchi mi faccio la capa perché qualcuno ha scritto violante e qualcuno ha scritto molestano perché abbiamo detto prima aleggiava noi riteniamo che anche Lucrezia aleggiasse cioè che la leggenda di Lucrezia in qualche maniera all'epoca fosse molto viva era stata accorta in questo modo cento bambini che agitavano fiori insomma era una cosa che aveva lasciato un segno in città si sapeva direttamente che era venuto anche qua se abbiamo ragione e quindi scrivere Lucrezia ha lo stesso senso che scrivere violante era un modo di ricordare certo l'ingresia e l'aligno aveva un'altra ragione insomma però gli altri gli altri potrebbero essere appunto una maniera in qualche caso anche Luc 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 non è scritto per intero però anche questo fatto di scrivere mezza parola ha un senso insomma cioè voleva scrivere Lucrezia però c'è anche un Lucrezio tra l'altro non so se abbiamo risposto è lo stesso Tucci poi che cosa rappresentano lì? è una canziosa faccina verosimilmente antica ecco questa non è una faccia del Novecento insomma c'è questa specie di cappa in testa insomma una cosa la caloculina sembra qualcosa che scende sulla destra e sulla sinistra insomma poi abbiamo fiori palmetri appunto buoni infreggiati insomma quello è un canzio che è proprio scritto di amo insomma c'è proprio di tutto è normale però ecco è bello della vita è normale cioè sono delle cose che possiamo vedere dovunque per la strada e soprattutto nei pubblici banchi insomma prego siamo stati con il cento non sono solo che ho fatto il tema o se sono l'altro? c'è qualcosa sui temi ah stessi c'era un certo numero di temi però il riconoscimento degli temi non l'abbiamo fatto insomma anche perché non sono ovviamente prescini magari c'è proprio il disegno principale con tutto quello che normalmente si trova magari c'è insomma l'animale tanto per dire c'è un leone lì e il leone non è stato fatto una cosa è una cosa da buona ecco lo sapevate c'erano i miei figli ecco lo sapevate benissimo adesso no invece volevo stifantizzare questa cosa dei nomi dei domi domici sulle pareti insomma alla fiscale io in realtà non io sono più non solo ma lei il graffito è per sé una manifestazione di sé e ha una letteratura dietro che non siete consapevoli ovviamente no ma si no ha ragione spesso ho discorso a due ma sono in questo caso pegnata al gallo e i graffiti sono una manifestazione di sé e sono spesso segno del contatto con il luogo in cui si è o con il santo che è in quel luogo quindi questo spiega perché sostanzialmente dalle catapombe dal secondo secolo dopo Cristo c'è un fenomeno di continuità fortissima di graffiti ad martire se vuole i santuari altmedievali nei palazzi pubblici del 300 e così e così e sono veicoli di messaggi diversissimi tra l'altro questi sono i graffiti sostanzialmente tra l'antico e l'alto medioevo e fino all'età moderna ma in realtà il mondo classico è pieno di graffiti anche che veicolano messaggi molto più banali e basta passare per Pompei e entrare a Pompei in qualunque casa e tutte le pareti pompeiane parlano c'è un bellissimo graffito a Pompei che dice mi stupisco che tu un muro non sia cascato sotto il peso di tutte le scritte che regge quindi questo è anche 79 dopo Cristo è un fenomeno con una continuità molto forte comunque ci ho detto ci sono due elementi secondo me interessanti rispetto ad alcuni di questi graffiti il primo è la presenza di alcuni nomi soprattutto di donne rispetto ai quali è possibile pensare a una scrittura per delega quindi un fenomeno interessante io non sono convinta che sia di fatto una scrittura per delega perché quelle mani non sono mani sicure e di fatto allora i delegati sarebbero peggio delle delegati dal punto di vista degli esiti grafici quindi non lo so può essere che siano dei nomi in realtà di donne che hanno scritto loro stesso nome per quanto riguarda invece la presenza di questi nomi non tanto di malattie violanti che mi sembra siano attestati in un caso solo se ricordo bensì di questa Lucrezia ammesso che sia sempre la stessa peraltro la mano è spesso simile insomma è una mano che scrive una maiuscola molto disarticolata insomma non è difficile che possa essere simile questo è un fenomeno che io invece non ho trovato spesso il fatto di come dire riassumere graficamente quello che è lo spirito del luogo e per l'appunto il nome di una e però non era neanche una domina logica che era così un mito di passaggio su questa cosa insomma forse vale la pena di fare non lo so in che modo qualche indagine interiore però è un'attestazione insomma sufficientemente isolata quindi è un apax autentico che mi sembrerebbe opportuno approfondire l'altra parte 14 volte insomma è importante e solo solo per quel nome poi scena a parte ma la gente come me come ha fatto questo che ha accolto la regola ha accolto la lucrezia che era figlia del papa nessuno ha fatto il cronetto ecco ci abbiamo il cronista che fa una cronistoria non ha fatto scappore certo che l'havrà fatto la gente come me no come voi ma io l'havrà fatto scappore e sapere che quella era la figlia di un papa se non c'era il crimson è l'impressione che faceva una cosa del genere come poteva passare ci doveva essere o un cronista che ne rendeva nota o qualcuno che scrivesse altrimenti non poteva fare il passapiso senza scrittura non si fa storia è impossibile anzi quello che stavamo sostenendo è che il nome lucrezia che non è piaciuto che un papa avesse avuto di tutto e di due che aveva questa figlia sposa la mandava veramente in Emilia nel senso che la mandava a Ferrara una scuola una scuola ma non insegnata così perché la regazione di Romagna c'era c'era la regazione la Bologna era tutto Romagna basta basta un'altra scuola Grazie. Ma va benissimo. E la stessa cosa che volevo chiedere, le cifre non sono state in generale, sono cifre armi, non ci sono cifre di cifre romane? No. Perché le persone che sono in fase di attesa, si dicevano. Sa dove sono le cifre? Poi adesso si vediamo. Cifre romane? Le cifre romane ci sono in realtà. Ce ne sono tante, ma sono sui banchi, sul giro dei banchi, perché indicano il numero del banco. Questo verosimilmente è stato fatto in occasione di quella ricerca degli anni Ottanta, non sulla archeologia del manoscritto, ma la testiace, una ricerca collecologica, che evidentemente aveva accesso ai manoscritti del banco e li tirava su, li metteva sulle giro. E scriveteva punti, perché ci sono una serie di appunti che sono delle dimensioni del manoscritto, Cioè, qualcuno che scriveva ovviamente non sul banco direttamente, ma scriveva sulla carta, appoggiava sul banco, veniva dare che passasse con il nuovo giro. Quanti tappi anni ci feravano? Grazie. Basta così? Sì. Sì, è caldo? Sì. Grazie. A me? Sì. Grazie. Grazie. Di essere venuta, signora Presidente. Le faremo porre un graffetto speciale. Grazie. Facciamo una visita che lascia il suo nome sulla... sul libro, insomma, è conoscritto, i nostri film di film. Il libro è diverso. Vedrà che già la lettura di un pericolo, è una cosa interessante. Poi ci potete dare un'altra domanda, se è un analito che è stamattina, forse anche oggi come inizia. grazie a tutti, grazie a Marco Pappo e a Paolo Emanico. Grazie. Grazie. Grazie.